Se un dipendente apre anche partita IVA, si ritrova con tasse doppie, IMSS doppio, ricalcolo delle tasse che vi abbatte lo stipendio, cerchiamo di fare qualche considerazione insieme perché dipende molto da che cosa fate, come lo fate, qual è la vostra situazione, che cosa succede nel momento in cui voi siete dipendenti in un'azienda, quindi avete la vostra busta paga, avete il vostro stipendio, su questo stipendio vengono calcolate delle tasse, delle imposte, viene calcolato l'IRPEF che va da un 23% a un 43%, che cosa vuol dire? Che già con il vostro stipendio voi probabilmente avrete raggiunto una determinata aliquota di tassazione, di percentuale di tassazione, che va appunto dal 23% al 43%, incrementale sulle fasce di reddito superiore. Poi magari vi faccio un video con i vari scaglioni IRPEF. Ora, che cosa succede nel momento in cui voi aprite anche la partita IVA? Possono succedere due casi. Voi aprite la partita IVA in regime forfettario, perché ne avete i requisiti? Perché in questo momento siete come dipendenti al di sotto dei 30.000 euro? E in questo caso non sono assolutamente tasse doppie e non ci sono assolutamente ricalcoli da fare nel vostro stipendio. Il vostro stipendio continuerà ad andare nella stessa direzione di trattenute IRPEF. Con la partita IVA invece andrete ad avere una tassazione forfettaria, 5 o 15% su un coefficiente di redditività. Poi magari trovi dei miei video specifici sul calcolo delle tasse. Ma le due cose vanno tutte in dichiarazione dei redditi, ma è come se andassero su due binari differenti. Da una parte come dipendente continui a pagare IRPEF, dall'altra in partita IVA paghi questo 5 o 15%. Che cosa succede invece se uno dice ma io però non ho i requisiti per il forfettario e quindi parto con una partita IVA classica, semplificata, ordinaria? E in questo caso non è che voi pagate tasse doppie e vi viene ricalcolato, vi viene riabbattuto lo stipendio. Che cosa succede per dirtela con parole semplici? Che alla fine dell'anno voi andrete a sommare quelli che sono i vostri redditi da dipendente, in dichiarazione dei redditi, e i vostri redditi, non il fatturato, i vostri redditi. Quindi il fatturato, quello che voi avete venduto, meno tutti i costi che avete avuto per la partita IVA, i redditi si vanno a sommare e rientrano tutti in un unico calderone. Che cosa vuol dire? Che tornando al discorso che abbiamo fatto prima degli scaglioni IRPEF, bisognerà vedere con i redditi da partita IVA che scaglione incrementale, che percentuale incrementale di IRPEF voi avrete raggiunto. Ma come vi ho spiegato prima, questa tassazione eventuale in più magari raggiungete anche il 43%, ma è solo sulla parte incrementale, quindi non vi va a modificare quella che è la tassazione che voi avete già avuto. Si butta tutto in un calderone, si vede quello che è il vostro reddito complessivo e si applicano quelle che sono le regole dell'IRPEF. Quindi a scaglioni, sulle varie fasce di reddito, si applica una determinata percentuale di tassazione. Detto questo, passiamo invece all'IMS. Qui, anche qui, possono succedere diverse cose, nel senso che voi come dipendenti pagate i vostri contributi. Quindi l'IMS, in parte voi, in parte il datore di lavoro, in parte voi come trattenute. Voi, tra virgolette, non le pagate direttamente, ma vi vengono trattenute nella busta paga. Ma detto questo, uno dice, ok, io voglio aggiungere un'altra attività in partita IVA. Come funziona per i contributi? Quindi, anche qui, dipende. Se ad esempio iniziate un'attività commerciale, da commerciante, e siete a tempo pieno come dipendente, potete chiedere l'esonero. Quindi non pagare l'IMS per la parte in partita IVA. Fin quando? Fin tanto che la vostra attività da dipendente è prevalente rispetto all'attività in partita IVA. Quindi non c'è l'IMS da pagare per la partita IVA. Da dipendente continuerete a pagare i vostri contributi, in partita IVA zero contributi, solo la parte di tassazione. Che cosa succede invece nel momento in cui non potete chiedere questo esonero? Anche qui verranno conteggiati i contributi, ma non per forza doppi rispetto a quella che è la vostra busta paga. I contributi in percentuale rispetto a quello che sarà il vostro reddito da partita IVA. Quindi se fate zero non ci sono dei contributi da dover versare. Se non eventualmente i minimali. Se invece accumulate reddito, quindi fate qualcosa di positivo con la vostra partita IVA, pagherete come qualunque partita IVA i contributi su quello che voi avete fatto in partita IVA. Non è che si va a peggiorare la vostra situazione. Questo è quello che cerco di dirvi. Quindi si va a sommare tutto, ma la parte in partita IVA seguirà le sue regole, la parte da dipendente seguirà le sue regole. Il fatto che la parte in partita IVA possa avere una tassazione alta è dettata dal fatto che voi avete già altri redditi su cui avete beneficiato della tassazione più bassa. Io spero di esservi stato utile. Per tutti i dubbi, per tutte le domande qua nei commenti, se mi sono stato utile, mandate questo video a tutti quelli che potrebbero averne bisogno. Seguitemi qui e anche sugli altri social.